Oggi riconsegnate alla comunità di Chieti un spazio importante della villa comunale. Quali sono stati i lavori che avete effettuato qui? Sì, oggi riconsegniamo un importante spazio verde dove noi vogliamo renderlo fruibile, accessibile soprattutto per le famiglie e per i bambini. Un intervento che è suddiviso su tre opere, la riqualificazione dell'ex casinetto del custode, lo spazio verde adiacente al casinetto e la riqualificazione del ponticello su via Costanzi. Questo è uno dei tre interventi che quest'anno faremo all'interno della villa comunale. Subito dopo l'approvazione del bilancio del piano trinale delle opere pubbliche partiremo con un altro intervento che grazie alla mia collega assessore Zappalorto stiamo portando avanti per una riqualificazione del verde all'interno della villa comunale stessa. Oltre questo intervento poi si partirà finalmente con la riqualificazione del campetto alla villa. Ce lo siamo sempre detti, ci siamo sempre detti dal primo giorno del nostro insediamento che avremmo voluto restituire la città, tutti gli spazi verdi, soprattutto oggi che siamo ormai speriamo in una fase di uscita da questa pandemia che ci ha tenuti reclusi, ci ha tenuti distanti. Quindi vivere il verde, vivere all'aperto per noi era l'obiettivo fondamentale. Restituire alla città ogni giorno porzione di spazi verdi è l'obiettivo per renderla sempre più green come si suole dire oggi. Ed è l'obiettivo e vedremo nei prossimi giorni, in questi giorni bellissimi di primavera e verso l'estate, vivere questi spazi soprattutto dei più piccoli che meritano oggi di respirare aria buona in luoghi bellissimi. All'interno di quest'area abbiamo anche realizzato un'installazione, questo si chiama Pequere ed è un, rappresenta un gregge in cui, che rappresenta un pochino la cultura della nostra terra, la cultura delle nostre tradizioni, dove vengono rappresentate 12 pecore che guardano tutte quante e si dirigono verso la stessa direzione, però ce ne sta una che invece è attenta al mondo circostante, e quindi guarda l'osservatore che passa sul viale e probabilmente rappresenta l'elemento del gregge che può dare una svolta a quelle che siano il modo normale di condurre la nostra esistenza.